Oggi è lunedì, controlliamo subito se siamo in diretta per poi condividere la diretta, vediamo un po', allora eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, allora qui condividiamo, prima cosa da fare, cioè prendi, copi link, allora naturalmente il primo che entra, non poi condividiamo questa diretta, condividi la diretta, noi siamo in diretta in contemporanea su redroni.tv, Opti Magazine, no Opti Magazine no stasera, sulla Facebook di Opti Magazine, poi dopo su YouTube, Facebook, Twitch e Twitter, copia, allora io sto copiando, poi dopo vado su Facebook, allora qui, andiamo qui su Facebook, ok, condividiamo, qui, ecco fatto, condividiamo, cosa stai pensando, sto pensando, cosa stai pensando, eccola qua. Allora, questa sera, questa sera ci sono tanti argomenti di cui parlare, tant'è vero che io ho detto, vediamo come vanno le cose, cioè nel senso, come stanno andando le cose, ecco qui, ecco anche su Opti Magazine, ok, dunque, intanto subito, subito una notizia pubblicata, perfetto, subito una notizia, una notizia abbastanza, diciamo importante, stavo guardando l'intervista a Don Montella, no, è Don Minutella, comunque, ecco, fra le cose, volevo dire questo, conviene sempre di più abbonarsi a Redroni.tv, perché le interviste che tu stai vedendo, perché tu non le vedi su Redroni.tv, nell'intervista ci sono degli omissi, omissi significa che ci sono delle parti censurate, ancora pronti ad aprire una porta interdimensionale insieme. Se invece tu hai l'abbonamento a Redroni.tv, questa intervista di Don Minutella l'hai già vista due settimane fa e la vedi integrale, quindi, rettore, quando l'hai invitata al rettore, ma poi dopo è finito il premiato circolante del Borno Rosso e non l'abbiamo più fatto. Bellissimo, quell'intervista con le ragazze che parlano con le anime, parleremo anche di questo, cioè di Sonia Benassi. Ciao, sarebbe bello come favole il tuo primo maggio 94 a Imola. Sì, con Ayrton, ma credo averlo già fatto, non lo so, Alessandro Lici va a Firenze, bene. Allora, che voce ho? Non lo so, che voce ho? Non lo so, che voce ho? Ma ho la mia voce, non lo so. Ti ho guardato, un identito su Telegram lo deve entrare nella rubrica Ascoltami, altrimenti non può. Condividi questa diretta con i tuoi amici, aiutaci a difendere. Benissimo, hai ragione Picchio, mando la sigla anche se Let's Spend Saturday Night Together, stasera è Monday, ma però la sigla è sempre quella. Let's spend Saturday night together, together. Let's spend Saturday night together, together. We, 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 your best friends. We, 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 love and happiness. Let's spend Saturday night together. We, 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 your best friends. Ecco, vedi, ad esempio, Eliana Gallo dice, si Reda, hai già fatto il racconto con Senna, ricordo bello. Allora, le favole le trovi tutte su Redroni.tv. Però c'è un altro, ciao da Imola, coincidenza, si parla di Imola, ecco una ragazza di Imola. Però c'è un'altra, un'altra, anche quella con Malanga, c'è tutta integrale senza pubblicità e c'era già giorni prima. Quindi, che sigla spettacolare, va bene. Allora, hai guardato il concertone ieri? No, qualcosina, non molto, ogni tanto cambiavo perché mi è successa una cosa, mi è successa una cosa molto, molto, cioè io ho un Mac Pro e ho montato la 10 ore di coscienza. Montate la 10 ore di coscienza per isolare tutte le interviste che saranno pubblicate isolate, questi collegamenti che abbiamo fatto o le persone in studio. Allora, assiaguratamente non ho pensato, colpa mia, di fare dei cut durante la registrazione, cioè di non registrare 10 ore continua del sabato 9 aprile, ma durante i video stoppare un attimo e riprendere, di modo che faccio dei file più leggeri. Così mi sono trovato su una timeline 10 ore per 3, 30 ore di roba sulla timeline. La timeline significa il montaggio, pesantissima. Ho fatto i file proxy, ce l'ho messo due giorni. Praticamente ho lavorato una settimana attorno a questi file, chiaramente non sempre lì, il computer lavorava, lavorava, lavorava. Quando ho finito di montare, esattamente finito di montare, ho fatto, si è spento il computer e non si è più acceso. Fortunatamente lavoro con degli hard disk piccoli a stato solido, ce li faccio anche vedere. Dov'è? Non so dov'è. Ecco, questo qui è di 2 terabyte. Ho lavorato su questo hard disk, di modo che qui era salvato tutto. Allo che sull'altro computer, questo con cui sto andando in onda, ho riversato tutto. Comunque è stata molto dura e insomma ci ho messo 10 giorni. Però per tornare a noi, annuncio molto importante, tantissimi hanno seguito le mie dirette che ho fatto dall'i-fi di Lega Lanfranco. Si era anche pensato all'ipotesi di trovarci da Lega in un giorno specifico e dove vediamo gli impianti i-fi, ascoltiamo cose che non ci possiamo nemmeno pensare di permettere, ma anche cose che ci possiamo permettere. Ci sono soltanto delle case che costano 3, 4, 5, 6 mila euro l'una, quindi lasciamo stare. Però almeno godiamo di questo ascolto. In questa giornata io porterei dei dischi, dei vinili, quindi farei ascoltare raccontando i vinili, farei una sorta di due ore in vinili, due o tre ore in vinili dal vivo, cioè così. Poi mi ha detto Lega, che verrà anche rappresentante di Marans, Denom, quindi per illustrare anche dei prodotti, cioè per far capire i prodotti, perché ce ne sono di tutti i prezzi, cioè per far capire il bello dell'alta fedeltà. Questa giornata accadrà il 29 maggio. Chiaramente c'è un numero chiuso, perché non ci vuole, è un numero chiuso di 30 persone. Allora uno dice come faccio a venire? Prima di tutto, la priorità l'hanno quelli che sono abbonati a Redrone TV. Quindi se con gli abbonati di Redrone TV raggiungiamo i 30 le persone ammesse, stop. Se non raggiungiamo le persone ammesse, allora possono entrare altri non abbonati a Redrone TV. Poi se gli abbonati a Redrone TV che vorrebbero venire, sono più di 30, faremo un sorteggio pubblico per decidere i 30 che possono venire. Faremo anche una diretta da lì, con il telefonino, documenteremo con la telecamera, insomma documenteremo questa giornata. Peraltro pare che ci offrano anche il pranzo, quindi è tutta una roba bella, quindi dalla mattina al pomeriggio stiamo lì, pranzo compreso, dove guardiamo video ad alta definizione, ne ascoltiamo musica eccetera, sarà una cosa bella e io poi farò ascoltare dei dischi con un impianto della Madonna che non ho neppure io e quindi anch'io godrò di ciò che faccio sentire raccontando qualcosa. Quindi ripeto, lo faremo il sabato 29 maggio. Tra l'altro faenza non è neanche, perché c'è chiaramente il sabato mattina c'è un esodo verso il mare, però faenza essendo all'inizio, cioè subito dopo Imola, non dovrebbe esserci molto traffico ad arrivare. Vediamo, speriamo. Comunque, comunque insomma ci vediamo lì verso le 10 penso, comunque vi darò delucidazioni in seguito su come fare ad arrivare, su quelli che saranno invitati perché chiaramente dobbiamo fare purtroppo un numero chiuso, ok? Quindi è un po' se pensate che al pranzo di Bentivoglie ne avevamo raccolti 100, quindi però lì in questo caso la priorità l'hanno gli abbonati a Redroni TV, quindi abbonati a Redroni TV che avrai dei benefit e tanti altri ce ne saranno in futuro. Leggiamo un po' di messaggi. Allora, intervista strepitosa, ovviamente questi contenuti hanno tale qualità che devono essere pagati, il lavoro di qualità va pagato. Lo so, ho avuto dei complimenti per l'interesse da Don Minutella che ho reso pubblico oggi pubblicamente con degli omissi, quindi con delle parti censurate, ho avuto complimenti persino, persino da cosa? Da Maurizio Vandelli. Maurizio Vandelli, ex Equipo 84, mio amico, mi ha scritto Vandelli perché ha giocato un po', subito dopo l'intervista vi faccio vedere cosa mi ha mandato, mi ha mandato questa foto, vediamo se ce l'ho qui, vediamo se ce l'ho, allora dov'è Vandelli? Data modifica. Ah, eccola qua. Mi ha mandato questa sua creazione su internet, dove dice tra genio e follia il passo è breve. E qui ci sono io che da un lato ho in mano l'effigie del Nobel, questo è il Nobel che viene dato, e sullo sfondo ho una statuetta dell'Oscar, mentre di qua sono con una camicia di forza. Questa l'ha creata Maurizio Vandelli, in effetti tra il genio e la follia, dice non ho capito quali sei dei due, tra il genio e la follia è tutto molto molto. Comunque lui mi ha scritto, abbiamo giocato un po', dice a parte gli scherzi l'intervista al pluris comunicato è davvero da grande professionista. Ecco, e quindi niente. Adesso leggo un po' di messaggi, anche in funzione a quello che ho detto riguardo a quella giornata che faremo di Hi-Fi. Non mi è piaciuto il concertone di Elver, ma il concertone non è mai bellissimo, però vabbè. Che bell'incontro con Don Minutelle, il suo sorriso ne scalda il cuore, è bello vedervi conversare anche se c'è un argomento di cui non eravate d'accordo. Certo. Allora, non è più vero concerto, grande incontro con Don Minutelle, mamma mia. Conosci Calcutta? Si conosco Calcutta. Oggi compio 33 anni. Simone, buon inizio di un nuovo cerchio di vita, allora. Allora, Riccardo Fogli, ho chiesto una foto, lui si è messo una sciarpa in testa e ha fatto finta di parlare in araba, ma non per la foto. Marcella, allora, il problema di quando si approccia un personaggio, e ho visto vita da Carlo, di Carlo Verdone, è che tu non sai in che mood è. Cioè, sono due maroni così, parliamoci chiaro, i selfie, tutte quelle robe lì, hai capito? Cioè, poi uno preferisce conversare, però non devi giudicare uno perché non ha voluto fare una foto, magari era di fretta, ma voi pretendete che uno sia a disposizione. È come quello che mi sta succedendo, soprattutto in questo periodo, via email. Voi non avete idea di quello che mi succede via email. Allora, tra quelli che mi chiedono, parlano di musica e mi chiedono di musica. Poi ci sono di quelli che mi chiedono di contattare Marina Tonini o Malanga. Addirittura, anche nei casi estremi, due genitori hanno il figlio che ha avuto una malattia genetica, è nato con una malattia genetica, mi hanno chiesto di contattare Marina Tonini per intercedere perché degli alieni vadano a curarlo. È un dramma, capisco che sono famiglie disperate, ma come puoi pensare che degli alieni arrivano giù, mandano i dottori e ti curano il bambino? Oppure un altro che ha un bambino, ha cominciato ad avere crisi epilettiche, e i genitori mi chiedono di parlare con Malanga per vedere se è un abduction. Cioè, calmatevi un attimo, trovatevi un buon dottore, nel senso un dottore buono, anche alternativo, ma buono, più tutti quelli che mi dicono che hanno visto al UFO, che hanno visto di qua e di là e chiedono di essere intervistati. Ma io non, cioè, da un lato sono felice perché significa che qualsiasi cosa io faccio entro dentro l'argomento e sembro essere così un esperto. Io non ho mai parlato di UFO, io ho fatto parlare, è diverso. Io ho visto solo una volta, uno fu da piccolo, ma a parte quello non ho mai, quindi non ho, quindi, ecco, questo ci tenevo a dire, vabbè. Grazie l'intervista a Don Minutella. Red, non avevi fatto la storia su Senna, ma con un tuo amico ingegnere hanno mandato via con l'inganno. Ah, la storia di Senna, sì. Vabbè, vabbè. Bellissimo, l'ha chiacchierata con Marina Tonini, che non conoscevo. Ti è piaciuto il videocorno che ti ho mandato su Telegram? Non lo so, non l'ho visto. Su Telegram dove? Ecco, cioè, poi, poi, allora, ma si può mandarmi un intero album da ascoltare per avere un parere su quali brani mi piacciono? Cioè, perché succede anche questo? Due o tre volte al giorno. In più che non mi arrivano le mail che arrivano a Roberta alla redazione, perché anche lei è sommersa. Cioè, ah, anche questa mi è arrivata. Red, organizziamo una Woodstock. Le date sono queste, il luogo è questo. Organizziamo una Woodstock. Ma, cioè, organizziamo una Woodstock. Vabbè. Che bello del video dedicato a... Buonasera a tutti. Interviste con Dominitella ancora. Ho visto la conversazione con Dominitella, ho lasciato un momento a riguardo. Straordinaria. Ricordatevi che qui c'è acqua nuova, ma forse ne parleremo in futuro. Allora, sono passato in l'ufo, ho segnalato il caso grande intervista a Gaspari, sì. Puoi chiamare in diretta la mitica Emma? No. Buon lunedì. Te red, voi come fate? Condivido. Buonasera a tutti. Spero di poter venire a quella cosa di alta fedeltà. Quando soffri di ansia e depressione come me la sera diventa un sollievo contro l'agonia della luce del mondo sempre più veloce e feroce. Con te in live la notte ancora più leggera. Me lo diceva anche l'Odola che dice Fai una diretta tutte le sere perché io guardo te e vado a letto tranquillo. Lo ci hai detto altre volte. Se invece vedo la tv, li vedo litigare, vado a letto col mal di testa e mi sveglio col mal di testa. Bella la chiecherata col Don. Bella col Don. Mamma mia, vi è piaciuto molto Don Minutella, eh? Dalla Spagna, cioè ancora. Ah, grande Lucio Battisti. Come facciamo a prenotare? Adesso, intanto do l'annuncio. È una roba che mi ha chiamato sabato, quindi do l'annuncio che accadrà questo. Dopodiché io farò un video che lo possono vedere solo gli abbonati di Redrone.tv dentro Redrone.tv e nei commenti ci si può prenotare. Poi dopo, se diciamo le prenotazioni raggiungono il numero di 30 siamo a posto e non viene nessuno extra abbonati di Redrone.tv Se le prenotazioni sono inferiori a 30, non ho dubito, allora ci apre anche lo spazio a quelli non di Redrone.tv che potranno prenotarci. Faremo un po' su Facebook, su Telegram. Se quelli di Redrone.tv sono più di 30 e dobbiamo solteggiare, quindi mi metterò tutti i nomi e poi farò un solteggio in diretta. Ok. Bellissima l'intervista di Don Nutella, lo so. Lo desidero a buon animo, ora non posso. Bellamente del 29. Sabato 28 maggio, domenica 29. Fammi dare un'occhiata a quando è. Sabato 28 maggio, allora. Eh ragazzi, io sono perso. Fra l'altro ho parecchi casini, allora. Sabato 28 maggio, hai ragione, ho sbagliato io. Non è domenica 29, ma è sabato 28 maggio. Quindi sabato 28 maggio. Che programma del Mac usi? Per Mac uso Final Cut, quello del Mac. Se è un vulcano instancabile, grande organizzatore. Mi prenoto, sono abbonato, please. Senti Giovanna, quando farò il video? Farò il video, lo potrete vedere solo sulle Donut.tv. Annuncerò che c'è il video, quindi potete prenotarvi. Il suono del vino di So di Peter Gabriel sarà meraviglioso, ad esempio. Ecco, cioè ad esempio, ecco in quel caso poi io chiederò a quelli che vengono quale video, quale dischi devo portare. Perché non posso portare 40.000 dischi, posso portare So, ad esempio, qualcuno, eccetera. La tua intervista aggista tre volte, ogni volta colgo spunti nuovi. Allora, grazie Gianluca, ho già corretto, 28 maggio. Ok, forse il 28, esatto. Non puoi fare diretta quando le fa Ferrari, ne abbia pazienza. Ho capito, ci siamo sentiti oggi con Alberto, lui sta facendo una diretta che finisce alle nove e un quarto. Mi ha detto, vieni in diretta alle nove e un quarto, inizia alle nove e un quarto da te. E io gli ho detto, no, non posso, perché io inizio alle nove. Va bene. Allora, perché non inviti Paola a dire che è successo fra di noi? Siamo amici con Paola. Non è successo niente. Mi sono collegato anche con lei quando era in... Ah, ma sì, ma siete gli stronzi che vogliono fare... Sì, ho capito. Quelli che vogliono dire... Ma è successo... Allora, io ho già pagato su questo campo perché sono stati dei geni che mi hanno detto cosa è successo tra te e Salvini anni e anni fa e mi hanno preso in giro. Entravano diversi, poi li ho incontrati e ci hanno diventati amici. Quindi basta, non mi interessa più. Ottimo lavoro, iniziativa giusta che sto a me. Ciao Red, ho visto una conversazione con Domino Nutella. Ah, grazie Maurizio Vandelli. Vandelli è quello dei mobili? No, è quello dell'Equipo 84. Sabato 28 maggio, perché solo 30? Perché non ci stanno? Abbiamo detto che il massimo numero che possiamo mettere all'interno del negozio Wi-Fi di Faenzo, di Lega Lanfranco, sono 30. Quindi gli altri guarderanno da casa. Vorrei una tua opinione. Si stanno realizzando professe apocalittiche. Questa elite criminale sta in copia dell'apocalisse. Allora, Giuseppe Giannettino, non rispondo a Avatar che non hanno la foto. Perché ormai sono pieno di persone che entrano dentro per avere delle mie cose da poi da estrapolare. Allora, credi nelle vibrazioni cosmiche, certo. Allora, comunque parlare di libertà e poi censurare il saliente dell'ascoltoio non è molto bello. Ma va bene così. L'attrezzista. Ecco, questo è un altro coglione. Me lo accompagnate leggermente fuori. Questo qui che si chiama l'attrezzista. Grazie Roberta. Accompagnalo fuori, per favore. Ok? Che non posso più commentare. Ci sarà un motivo per cui delle parti... Allora, dovete sapere che c'è un motivo per cui tutte le interviste le monto io. Quando ho parlato con delle persone, diciamo, ma come le monti tu? Sì. Perché con me le persone si dimenticano che c'è una telecamera. Si aprono. E dicono le cose tutte. Perché le monto io? Perché mi devo preoccupare di cautelare queste persone. Possono dire delle cose intime di cui possono pentirsi dopo, eccetera. Quindi il mio lavoro di montaggio è anche quello di censurare. Io però ho un altro modo di censurare. Non ho il modo che voi vedete, quando vedete le interviste, vedete il taglio. Cioè vedete che uno parla. E allora io dopo sto... E quindi dopo mi sono troppo... E allora... Come fanno anche io. Penso che sia figo fare così, no? Che fanno una frasettina e poi le uniscono insieme. Cazzate enorme. Io lascio la conversazione. Sopra c'è un foglio. Un foglio... Ve lo faccio anche vedere dov'è. Ecco, faccio proprio vedere il foglio. Eccolo. Il foglio che ho fatto era questo. Scritto proprio io, di mio pugno, omissis. In latino, perché Domi Nutella è teologo, quindi in latino, invece di censur ho messo omissis, che è quello che si mette in Vaticano, omissis. E ho messo degli omissis, con la chitarra sotto di Fausto Vesolella. Di modo che tu hai la sensazione di quello che è stato tolto. Ok? Bene. Però se ti abboni e ritorni il punto di tutto, te lo vedi tutto. Però è riservato agli abbonati. Ok? Allora, bellissimi quadri che hai dietro. Sono di Paola Rava. Bella quella del genio. Grazie all'intervista a Domi Nutella. Mamma mia, ragazzi. Non riesco a scrivere a Domi TV. Non riesco a confermare l'email. Pietro, non lo so, scrivi a support. C'è una mail per scrivere. Grazie all'intervista meravigliosa. Povia ti è simpatico. Sì che Povia ti è simpatico. Io non ho più il numero di Povia. C'è un numero pubblico. Gli ho mandato un messaggio e non mi ha risposto nessuno. Però Povia è certo che mi sta simpatico. a giocare nella zona del canale. Sono stati il primo a portarlo su un palco a Portoferrale, l'Isola d'Elba, durante un team tour. Giornata bellissima. Hai organizzato. Mi devo abbonare. Ciao Red da Budrio. Non riesco a scrivere a Domi TV. Non riesco a confermare il mail. Pietro. Scrivi a supportchiocciolataiuto.com Ok? Bene. Prova a chiamare Morgan. No. Allora, una cosa. Se io dico no, non lo chiamo. Non è perché io ci ho litigato. Ma è perché non c'entra. Ci deve essere una ragione. Non è che si fa le cose così. Ma sentiamo Morgan. Ah, ciao. Senti. È tanto che non c'è. Fra l'altro Morgan l'ho visto in vita da Carlo. Molto bravo. Allora, Olly dov'è? Olly è qui. Olly è esattamente qui. Qui, Olly. Guarda. Te la faccio vedere. Dov'è Olly? Quindi, aspetta. Ecco fatto Olly. Guarda. Allora. Eccola qua, Olly. Vedi? Questo è il mio computer. E lei è qui. Che sta facendo la nonna. Veroni che fai la nonna. Olly. 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 Eeeh. Sa che. Sa che. La sto perculando, quindi. Ok. Questo è Olly. Ok. Poi. Come stai? Qui mi perdo la metrica del tempo. Pensavo fosse sabato sera. Poi mi sono ricordato che la diretta è questa sera. Condivisa come sempre. Ciao Fabio. Fabio Gran Canaria, ragazzi. Fabio ha capito tutto nella vita. Quando vedrai su Reddroni TV le interviste mancanti di Vasco. Per esempio quello di Stupido Hotel 2001. Ho già visto tutte le altre. Mi sono scritto per Vasco. La metterai? Certo che la metterò. Ci saranno anche delle altre cose di Vasco. Allora. Mi sbaglio? Ho intervistato Marcello Mastroianni. Sì, ho intervistato Marcello Mastroianni quando venne a Pieve di Cento per inaugurare una statua del fratello che è uno scultore. Sì. Bellissima idea di cose. Bellissima iniziativa. Bellissima conversazione con Domino Tello. Lo so che è un vero sacerdote. Ha ricordato a tutti. Boldi, Venier e Teocoli, tranne te. Ti ha scocciato questo. Reddieri e domenica. Quando hanno intervistato Teocoli, hanno fatto vedere le immagini di una rotonda sul mare. Ha ricordato a tutti. Boldi, Venier e Teocoli, tranne te. Ti ha scocciato questo? Non sapevo neanche che avessero fatto vedere queste immagini. Non mi scoccia. Comunque, Mara Venier deve ringraziare me perché io sono stato quello che l'ha portata in televisione. Prima aveva fatto dei filmini e delle cose, ma come conduttrice l'ho portata io. Ed era un casino. Tanto è vero che fu fatta fuori perché era ingestibile. Però era molto brava e diceva guardate che questa è brava. No, non vale niente io per sposare il programma. Difatti dopo è diventata la signora di domeniché. Allora, perché non hai mai invitato l'intervista a Baby K? Puoi dircelo. Io non ho in... Ah, vabbè, sono quelli che entrano per i coglioni. Quelli che vedete senza foto. Ciao. Riesci ad entrare nelle nostre case con semplicità. Ti piace la Formula 1 di oggi? Sì. No, non mi piace la Formula 1 di oggi, ma le Clerc sì. Buonasera, puoi darci una macchina majorana in realtà di Ronaldo Pellizza? Non posso darti nessuna notizia perché non sono... Volevano che ci incontrassimo con Ferrarini, con Pellizza, ma Pellizza è andato nell'altra dimensione prima. Quindi non so niente di questa cosa. Ok? Potrei comunicare con voi, ho provato a scrivermi, ma forse... Cioè, bellissima la felpa, vabbè. Grande video con domi Nutella. Inviti l'Ariar Giolas. L'ho già invitata tante volte in Ariar Giolas e ho condivido un video che ho fatto sul primo maggio, molto bello. Lo trovi sulla mia pagina Facebook, eccetera. Quindi... Puoi mettere sull'opera il link per abbonarsi. Il link per abbonarsi è redronni.tv www.redronnie.tv Buona l'acqua nuova, eh? Ne sai qualcosa? Federica Rotta è la complice, anzi l'artefice. È buona. È fresca anche. Strano che esca fresca, però vabbè. Mi dispiace Red, ma il Ferrari non c'è proprio per niente. La Le Pen non pervenuta. Trump, chi l'ha sentito? Hai citato due elezioni che hanno dimostrato sono state leggermente manipolate, diciamo. Però va bene così. Allora. Devo dire che ho incontrato Red Ronny prima di un suo spettacolo. Il mio pensiero è stato non di fare un selfie, ma di stringere mano e incontrare la sua buona energia. Bella l'intervista con Verdone e i durandurani crozzi. Allora. Acqua nuova, Sponsor del Parano Rosso? Non lo so. Vediamo. Top con Don Minutella. Non chiedetemi perché non intervisti questo, perché non intervisti quello, perché non hai invitato questo, perché non hai invitato quello. Chiedetemi quelli che ho invitato. Non è detto che io non li abbia invitati. Magari li ho invitati e non sono potuti venire. Magari non ci siamo incrociati. Se vuoi, puoi non rispondere. Sei d'accordo con te con l'opinione di Minutella su Bergoglio? Non ti sembrano un po' forti? Sono un figo, eh, ragazzi. Inviteresti Ivana Spagna? Ivana Spagna siamo legatissimi con Ivana Spagna, anche se voluta solo una volta da me. Ti volevo chiedere di fare un raduno di tutti i fans di Olli. Il Lumia Ceret che qui sta calando il buio. No, Emanuele, non cala il buio. Mentre su New York calavano le prime ombre della sera, non cala il buio, non cala il buio, perché non è vero che sia il buio. Dopo ne parliamo su questo fatto qui del concepire il buio. Allora, stasera si telefonano a Benassi? No. Grande Don Minutella, grandissime interviste, sono già abbonato. Quindi tu Luigi l'hai vista integrale l'intervista e ti rendi conto che se vai a vedere quelle parede dove ci sono gli omissis... Allora, il bello di ascoltare la musica tenendo in mano la copertina del vinile e la custodia di carte del disco con i testi e lo so, il profumo della stampa. Lo so, lo so, lo so. All'estero i personaggi pubblici incontrati in strada non vengono neanche fermati per una forma di rispetto alla persona che in questo momento non sta lavorando, ma in un momento di vita privata. Lo so, in Italia non è così. Guardatevi Vita da Carlo, c'è su Amazon, e capirete, lì lui esaspera tutto, ma in realtà è così, c'è nel senso. Con me l'approccio è diverso però, per me, per me, per me, vedi come traduce Gidor che mi dice, gli do la mano. Io mi ricordo che c'era un periodo che con Vasco uscivamo la sera, no? E una sera erano a Milano, in centro Milano, io e lui da soli. A un certo punto mi dice, ma che strano, dice, quando sono con te la gente mi saluta, ma mi lascia in pace. Dico, perché l'energia è quella di essere per i cavoli nostri. Se tu corri con due guardi del corpo che ti spalleggiano, la gente dice, ah, vasco! Quando invece te lo passano, dico, ah, ciao. E subetti rispetto, perché tu hai rispetto di loro, nel senso che, è una cosa strana a me, è un fatto di frequenze. Ascoltate a chiacchierare con Don Minutella. Andate a vedere Don Minutella, perché è una cosa bellissima. Ho trascorso l'intera giornata a vedere le tue interviste e le puntate di We Have Dream. Ecco qua, www.redroni.tv Mi accompagnate fuori questo signore? Però leggo il suo messaggio. Ti fai prendere per il culo da un culo come Crozza? Allora, A, Crozza non mi piglia in giro. B, Crozza non è un culo. Ok? Crozza è un bravissimo professionista. Bravissimo. Sempre. Non mi prende in giro. Mi imita. Si diverte. E mi diverto anch'io a vederlo. Fine. That's all folks. Mandatelo fuori questo. Allora. Quanto costa abbonarsi? 9,70 euro al mese. Poi l'ho se fai sei mesi. Una sorta di Woodstock, nel senso di dare un grande spazio per una manipolazione. un festival musicale di cui c'è molto bisogno. Grazie per il tuo impegno. Gaetano, non si può fare. Non puoi partire dal concetto di fare una Woodstock. Non hai idea di cosa significa organizzare una cosa all'aperto. Non l'hai mai fatto. Questo è quello che io dico a chi mi ha fatto questa proposta. Non esiste. Cioè, organizzare ancora i permessi, il palco, le luci, la sicurezza, eccetera. Chi paga? Cioè, voi non vi rendete conto? Cioè, fai una cosa intima. Veramente un talento per la condizione dell'intervista. La tua umanità, dolcezza, profondità, riescono sempre ad arrivare al profondo dei tuoi interrogatori. Anche Don Minutella ha mostrato una dolcezza infinita. Lui, oggi ho parlato con Alessandro Don Minutella, lui è rimasto colpito dal fatto che dice, ma è incredibile come anche quelli che mi seguono ti stimino moltissimo. E abbiano apprezzato una conversazione dove avevamo punti divergenti su molte cose. Perché è così che si fa. Quindi, grande l'intervista a Sonia Benassi, lo so. Non ho visto l'intervista a Don Minutella. Eh, ragazzi. Io bevo solo acqua informata, purifico le energie, poggiando la bottiglia su una stampa del fiore della vita e nel contempo mette monica a 832 Hz mentre bevo e ringrazio. Intervista a Sonia Benassi, mammi. E il concerto ha visto solo Mengoni. Subito dopo, Carmen Corso e il Marine Ray strepitoso. Solo chitarre e batteria. Lo so, lo so. Max Pezzali, era emozionato. Carmen Corso e il Marine Ray ha fatto pezzi bellissimi. Quanto costa borrarci, l'ho già detto. Ecco, vi faccio vedere una roba per far vedere le persone. Non nessuno ha la foto. E ciuffo ribelle. Perché sei così restio ad invitare Elodie, Alessandra Morosa e Marco Mengoni? Sembra sei all'erge coloro, no? Elodie l'ha invitata. Alessandra Morosa, dove sono disponibile, se vuole venire. Marco Mengoni non lo conosco, non neanche un contatto. Per me, chi vuole venire, può venire. Tutti tranne uno. Ma chi vuole venire, possono venire tutti. Tutti tranne uno. Qualche deluscizione all'aumentazione vegetariana. Vegetariana. C'è un video, se tu vai su Dona TV, perché sono diventato vegetariano. C'è un video che fra l'altro ha fatto 1.200.000 visualizzazioni in più. Considerate che le visualizzazioni di tubo le dovete moltiplicare per 5, minimo. E dove spiego tutto. Risentire e parlare di Battiato. Una volta. Faremo qualcosa. Tassiera ti bacchetto dolcemente. Io avrei fatto parlare più il Don, come ha detto lui, più di spirito. Allora, Alba Chiaras. In parte hai ragione. Alla fine, quando ho montato l'intervista, mi sono reso conto che ho parlato tanto. Ma c'è un motivo per cui ho parlato tanto. Perché avevo voglia di interagire con lui. Inoltre, parlando tanto io, proteggevo lui. È un discorso molto strano che è lungo da fare. Però ho parlato tanto. Tant'è vero che non l'ho chiamata intervista, ma la chiamo conversazione. Se voi andate a vedere le altre cose, la chiamo tutte interviste. Questa l'ho chiamata conversazione, che è diverso. Stasera che hai red? Sto benissimo. Tornando avanti, sto leggendo. Purtroppo ci sono dei rompiscatole che... Purtroppo una volta io, quando eravamo in pochi, era bello, no? Io leggevo tutto al volo. Boom, boom, buttavo dentro. Adesso invece devo stare attento, perché ci sono molti che stanno rompendo le scatole, eccetera. Stasera hai i tuoi angeli, sì. Stasera hai i miei angeli. Non lo so. Tu fai le interviste in maniera esatta red, non come quelli che le tagliano e incollano. Bellissimo interviste a Don Miettella. Ti è ben capitato che qualche intervistato, qualche sua dichiarazione abbia voluto non pubblicarla, sì? Sì, ma anticipo io. Quando mi dice... Ah, non metti... L'ho già tolta, non ti preoccupare. Quindi, la montagna della Bavaria. Bella questa precisazione sugli omissis. Quando vuoi, parla anche della memoria dell'acqua, la conoscenza di Masaru Emoto. Avevo già capito che la bevi. Sì, ma ci sarà qualcuno che ne parlerà per me. Io sono abituato a far parlare gli esperti. Tant'è vero che ne sto scegliendo tanti. Cioè, non sono io a parlare di UFO. È Marino Tonini. È Corrado Malanga. E saranno altri. Non sono io a parlare... È... 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 Quindi, non sono io a parlare di chiesa, di Vangelo, eccetera. È Don Minutella. Non sono io a parlare di anime. È una che ci parla. Sonia Benassi. Cioè, io vado dagli esperti. Allora, c'è un numero su Telegram di Povie. Sì, me l'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Gli ho mandato un messaggio e non mi ha risposto. Ah, chiedo Eter Parisi. Ok, va bene. Allora. Quando chiedono, chiama Morgan? Morgan! Bella questa. Coscienza, buonasera. Un caro solo a tutti. Stasera è bello. Reattivo, scoppe tanto. Meraviglioso. Goodbye. Come mai che siete entrati come coscienza? Ho dedicato otto giorni a coscienza. E coscienza mi ha causato, diciamo, lo spegnimento di un computer che ho portato oggi a riparare. Mi hanno detto che lo possono aprire mercoledì. Poi devono mandare il pezzo alla Apple. Poi la Apple manda il pezzo, se ce l'hanno. E quindi io sono senza computer. Tutto grazie a coscienza. Però è stato un evento meraviglioso. Allora. Quali sono i tre brani che portaresti dietro nell'aldilà? Nell'aldilà c'è musica ben diversa e poi nell'aldilà troverai gli originali. Quindi mi dispiace ma non mi porto dietro niente. Porca vacca, ragazzi. Allora. Ciao Re, dopo i tuoi video sto provando i prodotti B&C e devo dire che sono fantastici. Per la conoscenza che mi hai discusso. Sì, i prodotti B&C sono strepitosi. Allora. Era il lunedì. È più bello. Ora il lunedì è più bello. Il mio buon error è da una tv. Ottimo. È bellissimo Olli, sì, lo so. Sosteniamo questo artista, è un pezzo di storia della televisione. Facendo tutti l'abbonamento. Ma la cagnolina è per la cucciola o in un carino? La cagnolina è per la cucciola. È la piccolina. C'è anche un video su... Dove l'ho messo il video? Su YouTube. C'è anche un video su YouTube dove la cagnolina era piccolina. L'ho messo di recente. Ti seguo dal Molise. Siamo stati in Molise. In Molise ho fatto per anni a Isernia il... Cos'era il... Cantautore, aspetta. Una rassegna musicale molto bella. L'intervista del Sol Malang è stato il top. Ti voglio vedere cazzuto. C'è chi dice cosa c'è, sei citato, chi mi vuole vedere cazzuto. Eh vabbè. Redronni è il genio a volte con benevoli. Se ti può interessare, per l'intervista Faber Moreira, una mia conoscenza delle mie zone, ieri ha superato il record di 200 ore conseguito di disgiocchi mettendo solo vinili. Sì, ma avrà dormito. 200 ore consecutive dormi, eh. Cioè non esiste, io ho fatto 24 ore, ti assicuro, e lo sai. Comunque domenica in Mara Veniera ha concedato Red Canzian chiamandola Redronni e non l'ho visto. Finalmente ho visto in trista Sonia Benassi. Avevo paura di vederlo, ma dopo mi sono ricredito. Ma certo. Uii, c'è Ilaria. T'abbiamo nominato prima Ilaria. Non so se c'è di già, perché io sono rimasto molto indietro. Soltato io una domenica. La Formula 1 di oggi non è gran che, ma l'atmosfera è fantastica. Vorremmo un intervista con Dr. Sila Fuernova. Vabbè. Eric Clapton che non ne concerti perché Novaks che ne pensi. Eric Clapton è uno coerente. Peccato che la coerenza arrivi soltanto dalle persone di una certa età. non dai giovani. I giovani sono allineati. Tutto quello che viene detto loro. Una volta i giovani erano ribelli. Una volta. Una volta la musica andava contro quello che era il sistema. Oggi invece gli artisti giovani sono diventati gli amplificatori del sistema. I megafoni del sistema. C'è qualcosa che non va. Quando fai uscire l'intervista con Domi Nutella, è su YouTube, oltre che da uno stimo dieci giorni sulle droni TV. L'intervista più bella di tutti i tempi è quella in cui gli chiedi di John Lennon e le sue canzoni. Vasco in auto con la portiera aperta. Meravigliosa. Me la ricordo. Era fatta a casa sua quella lì. Mi guardavano come fosse un alieno. Il bello è che non potevano dirmi nulla. Ah, che eri senza Moseruola. Sì, la sola, la sola, la sola. Però vabbè. Stasera super positivo. Bene. Quando la Carrati voleva domenica in. Fece fatica a convincere la Rai? Assolutamente no. Ero popolarissimo in quel periodo. Anzi, la Rai dopo voleva che io facessi domenica in. Ma dissi di no. Stupidamente. E' uno degli errori che si fanno. Però in quel momento io segui l'amicizia. Rosanna Mari ti usse alle gianzoni e mi disse no, tu torni a casa. E io ho tornato a casa. Vabbè. Quel famoso capodanno hai detto che Chris Cornella è stato suicidato. Questa frase mi ha turbato. Cosa lo devi? Chi ha voluto togli di mezza? Perché? Di sicuro diciamo che gli hanno dato una spinta. Allora. Dominio Tellegrand è un grande incontro. Arrivata tardi a causa di Ferrarini. Sì, Alberto ha facendo una diretta, ho ascoltato l'inizio. E' una diretta sul nome e cognome. Fra l'altro stanno succedendo delle cose che sono veramente, veramente allucinanti. Cioè io mi chiedo come stanno distruggendo. Questa sera volevo dare un titolo che forse ho già dato un'altra diretta. Però è sempre importante. Cioè la memoria è una cosa importante. Custodiscila, proteggila, non fartela rubare. Ci stanno cancellando la memoria. Addirittura la memoria atavica, il DNA, ci vogliono cancellare. Ci cancellano la memoria dei cognomi. Questo era il tema della diretta di Ferrarini di questa sera. Ma addirittura la cosa più allucinante è che i ragazzi che già oggi sono confusi a dei livelli incredibili. Perché? Ai ragazzi per due anni gli avete tolto la possibilità di stare insieme, di divertirsi, di abbracciarsi. E adesso gli confondete sull'identità sessuale. Ma uno l'identità sessuale la deve trovare dentro di sé. Non devi andare a dire attenzione, non hai detto che tu debba essere un maschietto e potresti anche essere un maschietto. Sciagurata, sciagurata. Guardate che roba. Guardate questa qui. Questa qui è un assessore alla regione Campania. Che vuole mettere fuori dalle scuole dei camper per parlare ai ragazzi, sensibilizzarli sulla chirurgia plastica. Cioè, con tutti i problemi che hanno i ragazzi, con tutte le droghe che si fanno sintetiche e no. E virtuali. Perché se ne stanno in casa, davanti a una Playstation, non escono più, non comunichano più. Cioè, la preoccupazione di questa qui, di questo essere, non la chiamo neanche donna, essere, è quella di portare dei camper per sensibilizzare i ragazzi su come fare le cose, la chirurgia plastica, ai ragazzi. Cioè, ma io domande dico, ma come si fa? Ma pagheranno caro tutto questo? Se non in termini giudiziari o in termini di karma. Sono degli sciagurati. Stanno togliendo l'identità ai ragazzi. Il doppio cognome adesso, anche questo. Ha ragione di Alberto. Poi uno può scegliere, ma tu non devi... Vabbè, insomma, comunque... Comunque, vabbè, fammi dare un'occhiata. Guarda che secondo me lei dice il contrario. No, 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 c'è anche l'articolo. Buffera sull'assessore regionale Calabria. Annunciata presente in campi di sensibilizzare sulla chirurgia plastica e il terreno di scuola. Polemica di molti utenti. I ragazzi dovrebbero accettarsi così come sono. E poi gli studi in campagna hanno altri problemi. È così. Cioè, già nel momento in cui affronti... Allora, andiamo avanti. Crignani ha fatto un bel monologo ieri alle Ieni. Ti è capitato di vederlo? No. Allora, non fatemi domande sulla televisione. Non ho visto Domeniché, non vedo lì. Non vedo la televisione. Ok. Allora, quella di Don Alessandro è la più bella che hai fatto. Conosci Gio Cerquetti? Sono amico di Gio Cerquetti. Sono Moir Red, mi devi un favore, capisci a me? Ah, beh, questa fa finge di essere Moir Alfebio. Red ha seguito durante Ibiza, incrociamo, lo dico, sulla Rock of Fame. Vabbè, no, non l'ho seguito Ibiza. Guardate l'intervista a Don Minutella, per intero ne vale la pena. Immagina di intervistare te stessa. Cosa chiederebbe a Redrone Gabriele? Un cazzo. Non amo essere intervistato, non amo fare le interviste. Tant'è vero che sto declinando tutte le offerte. Non chiedetemi interviste, lo dico qui, perché mi stanno arrivando di tutto. Già hanno smesso le televisioni in prima serata, perché hanno capito che non esiste che io partecipi a queste cose, queste seneggiate. E poi devo dire di no, anche tutte le web tv, mi dispiace, perché io farei solo le web tv, però non posso. Fare un'intervista, sono molto molto incasinato. Fare un'intervista significa fare le prove, stare lì quel giorno, prendo un appuntamento, eccetera. Già per me è difficile mantenere l'appuntamento della diretta in questo periodo. Perché? Perché non ne sono andati più, il primo atto a cercare di alberga nostra è We Have Dream. Non ho più dei palletti fissi e quindi sto avendo incontri, prendendo la macchina e andando fuori città e tutte queste cose. Tant'è vero che il lunedì prossimo non ci sarà la diretta perché io sarò all'estero. Però troveremo il modo di farla. Però stay tuned, come dicono i fighi, quelli che non sono boomer come me. E quindi stay tuned e vi salete informati. Cartone Adrien mi è piaciuto. Quindi. E' mai stato ospite a Franco Batiato da te? Sì, Franco Batiato è venuto al mio Roxy Bar, anche con Manu Scalambro. E poi io sono stato varie volte a casa sua, l'ho intervistato, ho ripreso concerti, eccetera. Quando ero bimba andavo in spiaggia con Walter Chiari. Era bellissimo vedere con che semplicità interagiva con tutti, lo so. Erano altri tempi però. Sul fatto di Bergoglio, ha telefonato con il ragazzo protettore di Endica. Bergoglio ha fatto solo una battuta sul fatto che siamo tutti esseri umani. Ha riferito a quello che ha detto. Una volta in contatto all'osteria della fibbia. Uno sguardo, un saluto, grazie. Rispetto per te, che sei grande perché doni la tua essenza. Non dono. Ti seguivo ai tempi di Roxy Bar. Che bello sentirti, manca tutto. Conosco Anna Statangelo. Mi diverte molto Anna. Il buio arriverà tra ottobre e novembre. Tanti parlano di un periodo. Però vediamo. Finalmente ti vedo dal vivo. Come hai conosciuto a Moni, in che anno sono altre le tue figlie? In che anno senza l'H? Però non ne parlo stasera. Un giorno ne parlerò magari. Sei una delle poche persone vere in questa valle di maschere. Maschere già in disuso. Buon amico, sta bene? Fidel, sempre contigo. Bravo. Te gusto, Max Pezzali? Sì. Bellissima intervista a Raul Bova. Grazie per la stupenda intervista a Tommy Nutella. Non mi staccavo più dal video. Ho sentito attenta le vibrazioni positive. E' arrivato tutti dalla stessa frequenza a 4,32. Massimo Clementi, scrivi a staff, quello lì, come support, ti aiuto, punto, quello lì. Red, hai detto che tu ti tranne un povero in età. Chi, 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 Giordano? Secondo te te lo dico. Ma secondo te io te lo dico. Non mi conosci se mi fai questa domanda, eh? Aristotele Pontiere, bandiera gialla su Eletrona TV. Che bella emozione. Tutta bella intervista. Poi Benassi, De Lama. Allora. Adrenalina Certano ci sono stato a cena insieme. Mi ha telefonato in diretta. Ma l'intervista vera o no? Ma accadrà, accadrà, accadrà. Quindi. Ho letto nel pensiero non può venire giovanotti. No, assolutamente. Lorenzo può venire. No, non hai capito niente. E non fate ipotesi. È l'unica volta che rispondo per chiarire che non è giovanotti. Ottimo interesse con Don Minutella. Mi piace molto Don Minutella. Sono atea e ci sono diventato per scoperto tante verità. Allora, devi vedere corrispondenza, un docufilm combattiato. Ok. Mi faccio uno screenshot che me lo cerco. Non so dov'è. Allora. Hai fatto fatica a diventare vegetariano? Assolutamente no. E sono diventato vegetariano. Quando tu prendi una decisione, è presa. Non è che devi farti le pimpe mentali. Beh, via. Quindi. Allora. Ho capito il senso di tu parlare tanto con Don Minutella. In effetti mi è sembrato strano che tu parlassi così tanto, ma ho capito al volo il perché. Risposta errate di Gianluca Spallanzani, che già sa che non è giovanotti. Allora. Monto di gli uffo, dimensione e frequenze. Mi ripeto anche un terapiettivo. Secondo te l'argomento è proprio sul serio. Ho solo appena un pianeta. Gran vazù. Secondo me la terra è tonda, però. Se tu pensi che sia piatta, non è un problema. Ho partecipato all'incontro di Don Minutella tre settimane fa in zona Milano. Fantastico. È vero quello che ho detto adesso. Parlandone oggi con mia sorella, stiamo proprio detti. Red ha protetto il donno. A me non interessa ogni scoop. Fra l'altro, non so se avete notato. Non l'avete notato. Ok? Allora ve la faccio notare io. Ok? Se voi andate nel titolo dell'intervista a Don Minutella, vi faccio vedere. Ok. Il titolo è Don Alessandro Minutella, conversazione su religione, chiesa, ruolo della donna, spiritualità. Il titolo viene fatto per attirare le persone. Ok? Se io mettevo. Intervista a Don Minutella. Il prete è sconsacrato due volte e minacciato da Papa Bergoglio di togliere l'abito talare. Ho scelto di mettere un titolo. Perché nel rapporto che ho con Opti Magazine fa sì che mi scelgo i titoli. Solitamente i giornalisti non possono scegliere i titoli perché i titoli li mette la redazione, i responsabili, e mettono dei titoli strillati per accalappiare attenzione. Quindi, ad esempio, io ho fatto un'intervista sui vinili e il titolo della stampa era Red Ronny, vinili e crozza, mi piace quello che fa crozza, che non c'entrava niente con i vinili, però crozza per avere... Ecco, quindi io qui potevo mettere quella roba lì. Perché ho fatto un titolo così? Ho fatto un titolo così perché? Per proteggere le persone. Non mi interessa a me fare lo scoop. Avrei fatto il triplo di visualizzazioni con un titolo diverso. Il triplo, te lo dico già. Se vuoi facciamo un esperimento. Cambio il titolo, vedete come... Schifano, ma non lo faccio. Ok? Mi intendo un po' di comunicazione. Pochino, eh. Così. Intervista Don Minutella è un capolavoro. Belle lunedì sera con te. Perché non fai un programma in te dove intervisti persone che hanno qualcosa da dire? Un programma in te? Non ho capito niente. Però vorrei dare una terrenza incredibile. Sto leggendo la bio dei Kurt. Tu hai incontrato Robert Sbit. Come è stato? Non eccezionale. Ho apprezzato anche gli omissimi dell'interestissima conversazione con Don Minutella. Perché lo hai tutelato davvero su tante cose. Ti do ragione. Sono d'accordo con te che nel realizzare un evento all'aperto è costoso. Ma ci vuole un permesso e dell'altro. Quindi capisco. È un casino. Organizzare un evento all'aperto lasci stare. La conversazione con Don Minutella è perfetta. Il dialogo è interessante. Hai fatto bene interagire. Ho acquistato il frigole della via C. Spettacolare. Lo so. Lo so che il frigole è spettacolare, ragazzi. Il tuo canale è un toccasana. La Drona TV sì. Lo so. È un toccasana. Che opinione hai? Papa Luciani hai mai conosciuto? No, non l'ho conosciuto Papa Luciani. L'opinione che ho su Papa Luciani è espressa nell'intervista con Don Minutella. Allora. È possibile essere extraterrestri senza avere la possibilità di sapere? Stai tranquillo Roberto. Non sei un extraterrestre. Allora. Vivi in Austria. Terra di Falco. Ho sempre adorato. L'hai mai intervistato? Sì, l'ho incontrato. L'ho incontrato quando venne a Sanremo in una discoteca. Venne a Sanremo un anno. L'intervista di incontrare in una discoteca di... Che ne vedi di Rossi Tuare come persona. Sei un artista di altri tempi. L'ho intervistato due volte. Giovanni da Fermo. Tu sei un esempio di vita per me. Nel senso... Alla mia disabilità scompare grazie di esiste un abbraccio grande. Sei fantastico davvero per me. Giovanni, la disabilità, vedi, c'è una ragione per tutto. Anche tu hai un compito. Svolgilo bene. Accetta ciò che ti è successo. E godi nei limiti che ti sono stati dati. Sì, credo di aver intervistato Brian Celsio. Io ho intervistato Brian Celsio e di Stricchetti. È vero, è vero. Il gruppo cantante di TN che mi sono dovuto intervistare. Jimmy Hendrix. È davvero bella la conversazione con Don Minutella. Mi sono abbonato a Ritrone TV proprio in occasione delle interviste. a Don Minutella, intervista da cui ho imparato molto. Ieri Bugo ti è dedicato una mia affezione bellissima. In un suo video Don Minutella dice che l'ultimo vero papo è stato più dodicesimo. Dichiarazione forte questa. Non lo so. È lui, eh. Ciao Red, ho preso l'acqua che bevi tu. Davvero buona. No, non hai preso l'acqua che bevo io. Non puoi sapere che acqua sto bevendo io. Mi dispiace ma non puoi saperlo. Siamo a un livello... Allora. Ciao Red, avevi ragione. Oggi mi sono reso conto che la Matrix ha venduto bene la propaganda mentale. Tanta gente rimane pula, gramigna e non si stacca da quella mascherina che ormai è diventata parte del corpo. Per quanto stanno uccidendo la fede, la famiglia, la cultura e soprattutto i bambini che, credimi, Red sarà nel futuro. Loro ci salveranno. Loro sono gli indaco, lo so. Sono anima antica e voluta e hanno la chiave per aprire quella porta che lascerà indietro il vecchio mondo. Ci sarà un nuovo pensiero che non sarà di questo mondo ma verranno altre culture stellari a rifarci una nuova scuola per saltare nella nuova dimensione senza manipolazione artefatta della Matrix terrestre. Pensa che... Guarda. A proposito di questo... Ti... A proposito di questo... Aspetta, eh. Sì. Ti faccio vedere un video che ho fatto perché ultimamente mi sto divertendo a fare dei video con gli effetti, no? Avete visto, sicuramente lo avete visto. Quindi... Però io non prendo gli effetti e faccio il cretino. Non mi interessa fare il cretino con gli effetti. Mi interessa invece usare gli effetti per dire delle cose. Tu hai parlato in questo momento di Matrix terrestre, no? Fammi dare un caldo. Di Matrix, di pillola rossa e pillola blu. Ho fatto questo video che pubblicherò in futuro. Eccolo qua. Pillola rossa o pillola blu? Siete tutti intrippati con Matrix e con la scelta. Pillola rossa o pillola blu? In realtà, nessuna pillola. Dobbiamo rimanere lucidi. Abiti di poter decidere col nostro cuore, con la nostra mente, senza alterare il nostro corpo con delle pillole, con delle sostanze chimiche. Pillola rossa o pillola blu? Nessuna pillola. Ecco. Questo l'ho avrei pubblicato prossimamente. Mi diverto a usare gli effetti per dire delle cose. E vi sto pubblicando su Telegram, sul mio canale Telegram soprattutto. Allora. Allora, io arrivo alla fine. Purtroppo devo saltare tutto, quindi salterò tante cose. Ripetetemi le cose che avete scritto perché sono rimasto molto indietro. Stranamente l'interesse condominio della tu che di soli te lasci parla liberamente se ti interrompo, stavolta l'ho visto, diciamo così, piuttosto l'ho qua. Ti ho visto, lo so, l'ho spiegato prima il perché. quando cercherai nuovi video, quando caricherai nuovi video del clan Narswegan? Penso mai. Mi stai chiedendo, mi stai chiedendo, che pale costo matri? Esatto. Curate le vostre anime. Bellissimo video. Allora, mancata... Quando inviterai Mauro Biglino? No, non penso che lo inviterò. Questa serie di interviste non può parte di puzzle, importante. Esatto. La pillola è simbolica. L'intervista Don Minutella, bellissimo, ha chiesto un parere sul Papa, ha detto che la chiesa ortodossa, riesci a intervistare anche questo sacerdote? No. Allora, con gli effetti sei inconfondibile. Una domanda tecnica, ma scusate, l'ultimo D dei Durand, che frequenze ha? Non lo so. Allora. L'artistica da giovane erano ribelli, ora sono i servi del sistema. Lo so, lo so. Adoro gli effetti come li usi. Nell'ultimo intervista gli ho chiesto un parere sul Papa Eletto alla chiesa ortodossa. No, non ripetetemi la stessa domanda. Forse i cateri, sapeva, creiamo un nuovo mondo felice. Vedi ancora i video di Ascolta, adesso ci metteremo anche lì. Sabato sera ho visto la mitica Bertin a un concerto dopo due anni strepitosa. Il sole detterà l'unica accenda. Ho appena finito l'intervista Tommy Nutella, bellissimo, grazie, abbiamo bisogno di spiritualità. Abbonati a redroni.tv sarebbe bello rivederti alla Palombelli con i tuoi venini. Hai incontrato, mi giuro, mi giuro, è venuto nel mio programma, è venuto a trovare il mio Sanremo, l'ho intervistato quando era con gli Ultravox. A me piacciono questi video che tu prepari e poi pubblichi anche in quello dove ti trasformi in un gremlin, pensi. Mi faccio vedere un altro. Mi faccio vedere un altro video. Stasera te ne faccio vedere due. Guarda. Guarda quest'altro video che adesso me lo carico. Ti faccio vedere un altro di questi video che mi sto divertendo ogni tanto. Mi metto qui, scelgo, vado a cercarmi degli effetti, li scelgo. Guardate questo. Arrivano. Sono già arrivati. Sono arrivati. Eccoli qua. Ciao. Eh? Allora. Non conosco padre pellegrino. Una curiosità. Tu che hai intervistato Dead or Alive? Che impressione ti feci Pete Burns? Mi rammare che non era divertente, non era un genio, però era divertente. si è parlato con Mazzoli, ma di altre cose. Che bello ascoltare la tv e ascoltarti su YouTube, inventata di aria fresca. C'è una terapia. Non riesco a fare meno della tua voce. Mamma mia. Quando continuai di nuovo l'expand? È questo l'expand? Ragazzi, è questo l'expand? Porca vacca, sei un po' distratta, eh? grazie per il coraggio e la forza di essere vero. Allora, questo non l'ho capito, dimension shifting, non so cosa sia. Quindi, Frank Zapp era un grandissimo Frank Zapp, l'ho conosciuto molto bene, Frank Zapp. Che biscaro che sei, sono proprio un biscaro. Seguo un domino della Dani e vi consiglio di leggere il suo libro Pietro, dove sei? Illuminante davvero. Cosa ne pensi del dottor Pinotti? Pinotti. Se ti riferisci a Roberto Pinotti ci incontreremo presto. Bellissimo. Allora, bellissimo. Uno spasso stasera. Che ne pensi del terzo segreto di Fatima? Il terzo segreto di Fatima è un bel casino, eh? Il terzo segreto di Fatima, perlomeno quello che ci hanno comunicato, però devo dire che coincide con tanti, cioè in tanti stanno parlando di questo periodo che verrà molto presto, dove dove ci sarà, si parla di tre giorni di buio, di non uscire di casa, si parla di frequenze, si parla di 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 uno sconvolgimento energetico. C'è chi dice che incontreremo le persone nostre che sono andate nell'altra dimensione, che non ci dobbiamo spaventare, che arriveranno forse alieni, insomma, dicono tante cose. però la cosa strana è che lo stanno dicendo persone diverse, da religiosi, come vedi il segreto di Fatima, a sciamani, a gente che dice di contattare gli alieni, eccetera. Tutti parlano di questo di questo grande sconvolgimento che avverrà. e in effetti qualcosa di grosso sta succedendo, sta succedendo qualcosa di grosso. Questi, questa violenza che c'è sulla Terra, questa cosa qui, è lo scatenarsi di un qualcosa prima che arriva la rivoluzione totale. Di Vasco non dici nulla a mio amico. Allora, è interessante il discorso sulla frequenza dei canti gregoriani e lo sembra considerato belli e piacevoli. È vero, però ti assicuro che da bambino assistere per quattro ore a canti gregoriani con il librino che non vedevi l'ora finisse tutti in latino se erano due marroni così. Però, vabbè. Grazie a te sono uscito a risvegliare un po' di persone perché ovviamente persone comuni non gliene danno non danno retta, esatto. Questa è la TV. 28 maggio 28 maggio 28 maggio ti sarà non hai mai dubbi? È certo tutto io una volta andai andai era amico di Cesare Fiorio e dopo che lui fu defenestrato dalle Ferrari la Fiat quasi per perché aveva capito aveva fatto una cavolata gli ha finanziato insieme alla GACAN un progetto che era quello del Destriero tantissimi anni fa. Il Destriero era una nave che anotava una Formula 1 del mare con il quale lui poi ha battuto il record di traversata atlantica. Allora mi ha invitato su questo Destriero e per la prima volta ho visto un sistema al computer fantastico questo sistema al computer praticamente ti diceva era un po' come una sorta di navigatore come nel navigatore improvvisamente ti fa cambiare strada perché sa che c'è un ingolgo in quella strada ecco questo era sul mare e ti faceva cambiare rotta per farti fare la rotta più veloce se c'erano delle onde alte se c'erano delle amareggiate quindi al limite allungavi un po' però navigavi più veloce e quindi facevi prima è la stessa cosa con il navigatore scegli la strada più corta o quella più veloce è la stessa cosa. La cosa bella è che mi ha fatto vedere che chiaramente non è che ti desse una via questa è la via che devi seguire no perché il tempo cambiava e quindi la via si riprogrammava cioè improvvisamente una via che sembrava più avanti che ne so 50 miglia veniva su una burrasca che automaticamente aveva il computer che riscettava tutto un po' come fa il navigatore che dice stiamo calcolando un nuovo percorso esatto questa è la vita quindi il dubbio è quello che fa sì che tu sei sensibile alle variazioni dentro di te e attorno a te e quindi chiaramente devi se tu sai dove vuoi andare lui doveva arrivare a New York e da New York doveva tornare e pensate che ha battuto talmente tanto il record che non c'era il telecamere ha dovuto fare un finto ingresso tornare indietro a fare un finto ingresso a favore del telecamere perché hanno fatto un record incredibile però tu sai che devi andare a New York ok quindi tu hai un obiettivo lui aveva un obiettivo il computer in quel caso gli diceva qual è la via più breve ma però più veloce però attenzione variando continuamente questa è la vita tu sai che hai un obiettivo nel corso della vita incontri persone incontri persone che ti pugnalano le spalle altre invece che ti danno una mano persone che ti fanno capire determinate cose io non avrei mai pensato di non mangiare carne per esempio però incontro alcuna persona che mi ha detto vuoi guardare la spalla non devi mangiare carne cioè quindi io non avevo dubbi sul fatto che io dovevo mangiare carne ma nel momento in cui trovo una persona che mi dice prova io dico ok e adesso non ho dubbi che non dovevo mangiare carne però nella vita si cambia si cambia perché sei soggetto a queste cose semplice perlomeno per me è semplice ero vettore dell'esercito allora Massimo hai rotto le scatole con la storia di Ivan Graziano di Ivan Catano tutte le volte scrivi di Ivan Catano quando torna non c'è il programma dove torna cavolo hai fatto 66 messaggi di Ivan Catano basta ti viene voglia di non invitare Ivan Catano è colpa tua cazzo ogni 3 secondi quando inviti Ivan Catano quando inviti quando inviti quando inviti Ivan Catano dai cavolo ragazzi ma un po' di rispetto porca puttana poi dice ma sei nervoso c'è l'unico contenuto intelligente a quest'ora hai svegliato la gatta con l'ologramma degli alieni forse li conosci quando ci raccontassi della st non lo so molto bello live ma un giorno tornerà non credo non lo so grande Bobisolo ha scritto che ha pereso il covid adesso come sarà sta meglio ho intervizzato i calzi una strada di vinile a tutto il mondo faremo anche quella però la cosa più bella è che il 28 maggio saremo a Faenza ad ascoltare con grandi impianti ragazzi non avete idea di come ascolteremo buonasera dal Portogallo ho conosciuto a Rimini in carcere Vincenzo Mocci ah Luigi mi riferisco a Pinotti del Kun sì esatto è lui è Roberto Pinotti l'ho incontrato ci siamo sentiti in questi giorni il DVD dedicato a Pavarotti è stato bellissimo sì il DVD dedicato a Pavarotti che è spettacolare è uno dei DVD dei 33 DVD Roxybar che sono in redroni.tv ci sono delle robe incredibili voi non avete idea molto interessante la tua domanda a Don Minutella che non conoscevo domande mirate che sferano l'essenza mi piacerebbe se ne fosse tanti come lui a Riccione Claudio Cicchietto sono felice che Claudio sia candidato a sindaco di Riccione come mai sottovalutti un marmori non l'ho mai incontrato allora sottovalutti un marmori come persona non l'ho mai incontrato mi piacerebbe parlarci anche perché gli Smith hanno fatto un album con una copertina fantastica Myth is Murder che è strepitoso si intervisterò Ruggeri certo vero siamo disorientati però lo so l'impegno come in tutto questo ti stanca? cosa ne pensi della guerra nucleare? allora questa è la domanda più stupida che tu possa fare cosa ne pensi della guerra nucleare? ti devo dire che è bella? ti devo dire che è brutta? cosa ne pensi? ma che domande fate? ma prima di scrivere cazzo ma ascoltate allora vi dovete gente come te deve cominciare a imparare ad ascoltare ascolta e fai una domanda quando veramente dici cazzo quella cosa mi ha incuriosito cosa avrà voluto dire? e fai la domanda secondo te abbiamo parlato io parlo io di cose negative? no allora perché fai questo? ogni tanto gli metto questi qui invece di saltarli per cercare di capire capire allora mi hanno ah ti avevano arrestato nel 92 mi hanno arrestato nel 92 e tu hai conosciuto Vincenzo Muccio in carcere ma va a cagare mi piace il nuovo Red mi stupisce ogni settimana sempre di più il suo risveglio è così manifesto emotivo di ispirazione per tutti piango di gioia si pensa che la nuova era sta arrivando sì uno dei pochi se non l'unico degli artisti attuali che dice quel che pensa Ruggeri lo so tre giorni di buio non uscire anche se senti parenti i parenti i difunti il buio è arrivato la sera dal 30 aprile con la luna nuova il toro in le prime eclissi questo fenomeno ha aperto il portale potente a livello energetico che avrà il culmine con il plenugno lunedì 16 maggio in cui ci sarà l'eclissi di luna che diventerà rosso fuoco tutto questo sarà molto potente chissà ma dal buio nasce la luce i canti gregoriani nascondono ben altro come scoperto da padre Hermetti perché non parli un po' di Gustavo Roll i tempi sono maturi per quello che affermò teleforicamente Alacarla non so cosa affermò telefonicamente Alacarla diciamo che ci sono dei contatti con persone che hanno conosciuto molto vicino a Gustavo Roll ma non si sono ancora concretizzati ok se si concretizza vuol dire che Gustavo Roll vuole parlare di lui con me o attraverso me parlare di lui altrimenti no io sono fatto così ci sono degli artisti che ha rivolutato nel tempo Eter Parisi con Anderet Gegan Power perché continuano mettere il pseudo cantante a fare pubblicare canzone speriamo che il terzo segreto di Fatima si avveri veramente e potrà incontrare il mio papà Luciano il tuo papà lo incontrai comunque non devi aspettare che si avveri il terzo segreto di Fatima quindi possibile che sia l'unica cosa intelligente a quest'ora non lo so non so cosa c'è a quest'ora non guardo la tv sono passati anni ma la gente fa sempre le stesse domande ho appena fatto l'iscrizione facilissimo grande Red Mauro sei abbonato perfetto ti piacerebbe conoscere Maurizio Crozzi persona non conosco Maurizio Crozzi ho partecipato a due o tre suoi programmi è stato invitato da lui lo conosco è venuto da me a Elp con sua moglie avevano uno spettacolo teatrale ci racconti una favola se fate i bravi vi racconti una favola quello che si diceva ai bambini sei una forza spirituale credo nelle altre vite passate è stato un rivoluzionario verso il bene Polasi viene a casa mia a Berlino ma certo è lì Berlino si ho sentito anch'io e non ho appreso nemmeno senti persone amiche che ti chiedono di farle entrare mamma mia un signore in paese ha una collezione di quasi 40.000 dischi degli anni 50 oggi bravo gli ex attraessi ci aiutano con delle macchine che rilassano la frequenza di guarigione che ci aiutano a risvegliarci poi i maestri in astrale con cui possiamo connetterci ma deve partire da noi ascolta te la musica è una cosa nel martello della Madonna di Guadalupe è stupendo come che questi due anni sono stati un incubo dobbiamo creare il bene sì grande ritorno buonasera la vita è un sogno i sogni aiutano a vivere ecco questo è un altro la saperda è Fatima qui in Portogallo tutti sappiamo che era un UFO la chiesa se ne è approfittata della ingenuità della povera gente non so cosa sia il guerriero di Capestrano c'è un'altra persona nel caso amicizia che parla anche di Gaspar Delama sul canale di Davide Cristallo si parla con questo amico di Gaspar sì io ho parlato con l'originale perché devo parlare con uno a cui Gaspar ha detto delle cose ho parlato già con Gaspar poi io non posso andare a intervistare voi non avete idea di quanti mi stanno scrivendo perché dicono io ho visto degli UFO mi intervisti io ho visto mi intervisti io conosco una che parla con le persone anime devi intervistare anche lei ma ragazzi però questo attenzione questo fa capire come l'informazione ufficiale si sia allontanata completamente da tutte queste cose cioè in televisione in radio non ascolti più spiritualità religione non ascolti più discorsi profondi no non ci sono più quindi quando io faccio una intervista tutti gridano al miracolo ma non è un miracolo semplicemente sono l'unico che le fa come dice ah che bravo tu che ti occupi degli emergenti sono l'unico non è che sono bravo sono l'unico cioè sono il bravo ad essere l'unico un bravo ad essere l'unico domini italiani nel suo video dichiaro che l'ultimo Papa legge l'avete già scritto allora in Germania mentre avevate il Covid facevano esistuzione militare le frequenze delle fusa emesse dai gatti sono curative teoria di Lenny Rosolowski Malachia vabbè in Antartide ci sono sacche vivibili con vulcani temperature gradevoli i tedeschi interferirono lì e fecero un patto con una razza che vive lì e si sono infiltrati nel governo USA mamma mia quando arriveranno i tre giorni nel buio poi è una proiezione di Malachia ti ho detto che in tanti stanno da Fatima adesso Malachia sciamani ci sono tutti questi tre giorni di buio mamma mia conosci i sette peccati specchi e seni no non conosco i sette specchi e seni Red è vero che gli alieni mangiano funghi certo amano molto i funghi amano molto quelli però trifolati però qualcuno ama anche i funghi fritti a qualcuno ci piacciono anche i fritti i funghi gli piacciono poi gli piacciono le zucchine impanate quelle vanno pazzi per le zucchine impanate le patate fritte invece no però preferiscono esempio melanzane fritte quelle belle impanate quelle sì quelle le amano poi amano la frittata frittata con uova e patate questa è diciamo l'alimentazione aliena ok andiamo avanti ti ho trovato in un momento della mia vita abbastanza triste e pesante le tue dirette mi hanno aiutato moltissimo hai incontrato Van Morrison sì l'ho incontrato la mia intervista con Van Morrison è storica quindi abbiamo una strada in Italia che si chiama guerriero di Capestrano e che cosa sta strada di guerriero di Capestrano ma è incuriosito di che segno sei? sono sagittario scendente calcolo red io ti seguo e l'acqua che bevi tu red io ti seguo e l'acqua è quella che bevi tu no non è quella che bevo io scrivimi che acqua bevo io vediamo che acqua bevo io cos'è che genera quest'acqua vediamo il dubbio è la cosa che ti si pone avanti a un bivio nel tuo sentiero e ti permette di deviare per repressionare la giusta direzione no attenzione non è la giusta direzione è sbagliato la direzione è quella giusta cioè io voglio arrivare là ma il giusto percorso è diverso la direzione è sempre quella mai avessi pensato di diventare vegano? in effetti ti verrebbe bene mangiare le costate quelle grosse così a vederti uomo alto e grosso Damiano beh certo c'hai un leone tu un'e come avatar quindi inevitabilmente perché rispondi quasi sempre in modo così nervoso? quasi sempre ecco ecco vedi Cristina ecco io rispondo nervoso quando incontro una così perché rispondi quasi sempre in modo così nervoso? rispondo due volte su 80 due volte su 80 nella tua matematica è quasi sempre o ogni tanto o è raramente le parole sono importanti ragazzi imparatevi ad usare le parole giuste un ricordo di Joe Ballas dei Coil lo vedi insieme a cosa? insieme a a Peter Christofferson bello conversare bel commerciare con Don Minutella consiglia il film Il cielo sopra il bellino è uno studio psicoanalitico di Maria Louise von Franz Jung sul mitico San Nicolao quello del terzo segreto di Fatima me l'ha raccontato varie volte anche mia madre sul fatto che ci sarebbe stata la rivoluzione in tre giorni di buio e altre cose quindi il mio consiglio è pregare secondo te è giusto pregare per queste cose certo pregare va sempre bene dopo due anni sopprusi il mondo dello spettacolo artisti tutti fitti per due anni ma sul primo maggio a Roma lamentarsi i ipocriti ma i grigi che ci hai fatto vedere erano ologrammi no erano veri sono arrivati qui erano qui sopra ho scoperto che ci possiamo connettere delle frequenze cristiche delle frequenze buddiche per esempio il loro spirito vive ma anche quello del male il 28 maggio è una giornata particolare in tutto il mondo saremo nei giorni di un cambio vibratorio che attendiamo associa bene noi ascoltiamo delle vibrazioni hi-fi comunque il 28 maggio stanno morendo ci sono molte persone che passano nell'altra dimensione ma soprattutto da tanti ragazzi chissà perché non ne ho idea puoi far vedere le sedute di medium no non le ho riprese ho fatto solo l'intervista ho comprato il disco di Andrea Chimenti il deserto la notte il mare secondo la mia modesta conoscenza di musica il disco è molto bello lo so molto bello sarebbe interessitissimo un incontro tra Ferrarini Benassi e Olga Samarina che è un'esperta della Russia esoterica radioestesia radioestesia tante volte l'incontro con Ferrarini Benassi c'è già stato l'ho documentato non so se sarà pubblicato perché va a scorsi non ha avuto successo all'estero perché va a scorsi canta in italiano bella la foto di Hendrix dietro di te sì molto bella un giorno parlasti in un video dove spiegavo la copertina di Dangerous tu ne parlasti e volevo approfondire pure un abbraccio da Tenerife Andrea la copertina di Dangerous è tutta piena di simboli comunque se tu vai invece di chiedere a me vai su YouTube no su YouTube su Google cerchi la copertina di Dangerous simboli il significato dei simboli ti dice tutto ok? cosa ne pensi del fenomeno Greta Thunberg? fatevi riserve di legumi sì va bene Tenerife ne abbiamo bisogno perché dobbiamo partire come dei razzi buonanotte dalla Spagna ti ho conosciuto grazie all'incontro con il grande padre Minutella si nasce e sei in pace la madre ti allatta non parli non sai cosa devi fare ti lasci fare ti lasci amare o amare si cresce sempre in un percorso il percorso della vita sempre che sia possibile quasi tutto seguono delle regole sociali in pochi ascoltano ecco perché non finisce la guerra vabbè dopo due anni pandemia artistica vabbè l'hai già scritto ho 40 anni soffro di nostalgia di un'epoca manco vissuta penso a te sogno il neorealismo la comedia italiana sino al bandiera gialla io non c'ero vorrei i miei 40 che sfiga la migliore mi raccomando aspettate il portale vedi non è che allora io ho visto parlavamo di musica ci trovavamo